Sempre sul pezzo i ragazzi di Aniba con le loro offerte, numerosi sconti sull'ampio catalogo offerto di Aniba, mi raccomando ragazzi, come sempre per maggiori info, link in descrizione. Lunga l'attesa ma alla fine ne valsa la pena, signori, siamo pronti, è uscita finalmente la patch più attesa dell'anno del mondo calcistico videoludico, stiamo parlando della patch versione 1 dei ragazzi per Steam per PES 2021, aggiornata la stagione 2023-2024. Ragazzi come sempre ben ritrovati e come sempre un grosso, enorme grazie al lavoro immenso di Chimio85 e di tutti i ragazzi del forum e del sito di PESsteam.it. Prima di iniziare un consiglio, se vi piace il calcio e apprezzate i contenuti che porto all'interno di questo canale, mi raccomando, iscrivetevi e se volete supportate quelle che sono tutte le serie in questo momento in corso. Contenuti versione 1-23-24. Prima di iniziare il tutorial, vediamo quali sono le novità di questa importantissima patch. Calciomercato aggiornato all'1 di novembre per 10 campionati, una grossa premessa, questa patch è dedicata principalmente all'Europa, quindi no campionati del Sud America o di altri continenti non sono stati aggiornati. Aggiornata l'età, e questo è un problema diciamo presente in altre patch di altri siti. Overall aggiornati, corrette anche le posizioni e i ruoli dei giocatori. Eliminati i giocatori ritirati, modificati gli overall dei nuovi giocatori e anche un aggiornamento per quanto riguarda le nazionalità. Pest Team non chiede soldi per scaricare la patch, ma se volete supportare il lavoro di questi ragazzi, qui all'interno del loro forum ci sono poi tutti gli indirizzi che vi possono aiutare per fare una donazione. La parte più attesa, l'inizio del tutorial, Winter Edition. Ci ricorda qualcosa? Sì, una vecchia patch, quella di 7 mesi fa. Un aggiornamento del calciomercato invernale per la stagione 22-23. I ragazzi di Pest Team vi danno due opportunità. Quella per chi non ha la Winter Edition, che sarà quella che seguiremo per questo video, e quella invece per chi ha la Winter Edition. Qui però ci sono dei passaggi un po' scomodi e ho letto anche all'interno di questo topic che diverse persone hanno avuto difficoltà. Questo passaggio prevede l'eliminazione di certe divise, di squadre di campionati diversi. Scozzese, Portoghese, Russo, insomma, ne tocca diversi. Per poi successivamente caricare la patch aggiornata alla stagione 23-24. Ma siccome ho notato diversi problemi, leggendo poi il topic, ho deciso, come spesso facciamo poi alla fine nel corso di questi tutorial, di eseguire un'installazione totalmente pulita. Ma non di una, ma di ben due patch. Quindi recupereremo la Winter Edition, che però va scaricata da questa pagina, perché in questa edizione è già stata tolta, è già stata pulita dai kits vecchi. Per poi successivamente scaricare la patch aggiornata alla stagione 23-24 ed installarla sopra, senza eliminare i contenuti della Winter Edition. Quindi per prima cosa, qui Winter Edition, cliccare e scaricare. Ritornare nella pagina principale ed eseguire il download della patch versione 1 stagione 23-24. A parte la presenza di chiellini, vi dovreste ritrovare in uno scenario simile. Naturalmente queste cartelle non sono altro che la conseguenza al solito lavoro di cliccare col tasto destro e di poi estrarre i file come, in questo caso, Winter 2023 oppure Chimo85 versione 1. Per avere delle icone così, i soliti software WinZip, 7Zip, WinRAR, questi software vi permettono l'estrazione di questi archivi. Successivamente torneremo in questa schermata, anche perché bisogna copiare la cartella WePass, incollarla su chiavetta o, per chi dà PC, in documenti Konami e eFootball PES 2021. Ma lasciamo un attimo questo passaggio. Adesso, come sempre, la preparazione per poter installare queste patch con un PES 2021 totalmente pulito. Come sempre ci ritroviamo nella pagina principale di eFootball, andiamo su impostazioni, andiamo su modifica, successivamente importa e esporta e eliminazione di immagini. Qui dovete eliminare ogni singola immagine presente all'interno di ogni sezione, quindi la sezione divisa L eliminate tutto, divisa S eliminate tutto e così fino ad arrivare ad immagine logo sponsor. Tutto da eliminare. Successivamente salvate, mi raccomando, salvate, 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 altrimenti sarà tutto inutile. Dopo aver salvato, per chi è da console deve seguire quest'ulteriore passaggio. Uscite dal gioco, recatevi su gestione dei dati salvati dell'applicazione, successivamente dati salvati nella memoria di archivazione del sistema, e poi andiamo su elimina. Andando su elimina, ci richiamo sul gioco che ci interessa, in questo caso PES 2021, assolutamente non i dati di sistema, ma dovete andare a eliminare i dati di modifica ed eventuali backup dati modifica. Mi raccomando, solo questo, assolutamente non i dati di sistema. Per chi segue questo tutorial e vuole installare questa patch sulla versione PC di PES 2021, deve ricordarsi di eliminare la cartella WIPES presente in Documenti, Konami e Football PES 2021. Ritorniamo nelle nostre due cartelle, la Winter e quella nuova. Doppio clic sul file opzione Winter 2023, prendiamo WIPES. Tasso destro, copia. Per chi gioca da console, la cartella dovrà essere incollata su una chiavetta. Per chi da PC, dovrà incollarla esattamente nella destinazione citata poco fa, quindi Documenti, Konami, PES 2021. Vi ricordo ragazzi, questa cartella, questo contenuto, non quello che c'è all'interno, ma questa cartella. E nemmeno la cartella precedente, altrimenti né PES né la chiavetta saranno in grado poi di riconoscere questi file. Siamo tornati quindi su PES, come sempre pagina principale. E qua, diciamo, andiamo a ripetere un po' quello che abbiamo fatto sette mesi fa. Una installazione da zero della Winter Edition, della patch aggiornata al calcio mercato invernale stagione 22-23, dove come al solito bisognerà prima importare le competizioni e poi successivamente le squadre. Quindi, Importa esporta, Importa competizione, Selezionare tutto, Impostazioni dettagliate e, mi raccomando, la spunta su sovrascrittura file immagine con nome uguale. Successivamente è il turno di Importa squadra. Selezionate tutte le squadre, Impostazioni dettagliate, Doppia spunta e Confermate. Dopo aver caricato tutte le squadre, io vi consiglio sempre di salvare. Adesso potete uscire da PES e ritornare nella schermata dei download, perché adesso è il turno dell'altra patch, quella Kimio85 versione 1 2024. Non abbiate fretta però, perché dovete prima eliminare la vecchia patch, o per chi è da PC, da Documenti, Konami, PES 2021, per chi invece è da console, dà la propria chiavetta. Quindi non abbiate paura di eliminare la cartella WIPES, però mi raccomando, Documenti per chi è da PC, Chiavetta per chi è da console. Così evitiamo sovrascritture, non si creano problemi ed è proprio una installazione pulita. Doppio clic Kimio85 e copiamo la cartella WIPES, quella definitiva. Quindi tasto destro, Copia e come ben sapete la andiamo ad incollare per chi è da console, sulla chiavetta, per chi è da PC, Documenti, Konami, PES 2021. Come sempre, allora di nuovo su Impostazioni, andiamo su Modifica, Importa e Esporta. Ricordo anche una cosa che mi sono dimenticato di dire nel corso di questo tutorial, per chi possiede PC 2021 e l'ha avviato per la prima volta e vuole installare questa patch, con molta probabilità si ritroverà di fronte a sé un tutorial da dover seguire e quindi costretto a importare una squadra scelta da Konami che la porta ad essere un esempio, un tutorial nel tutorial. Non dovete preoccuparvi, seguite tranquillamente il tutorial e andate avanti. Stesso discorso vale anche per qualche pagina indietro, nel senso che prima di arrivare a questa schermata vi chiederà di creare un file modifica. Anzi, questo lo chiederà a tutti coloro che poi hanno effettivamente pulito totalmente PES 2021. Tornando a noi ragazzi, è di fondamentale importanza seguire l'ordine esatto, quindi sempre prima le competizioni e poi successivamente le squadre. Altrimenti si può creare confusione, si possono creare dei problemi. Sempre la spunta e sempre confermate. Importa squadra dovrebbero essere 201 le squadre a disposizione per questa patch, solita doppia spunta e solita conferma. Salvate sempre dopo aver importato tutte le squadre e tutte le competizioni e solita prova del 9, solita prova che ci permetterà di capire se abbiamo fatto tutto correttamente oppure no. Se non fate nient'altro, l'ordine dei campionati dovrà chiaramente essere rifatto. Per l'ordine dei campionati però, come sempre, preferisco fare un video a parte per non renderlo poi troppo lungo e diciamo difficile, quindi nei prossimi giorni uscirà anche il video sull'ordine dei campionati. Però andiamo ad esempio sull'Inter, andiamo ad esempio sul Milan, che sono due squadre che si sono mosse abbastanza in questa sessione di calciomercato per vedere se le rose sono poi effettivamente aggiornate. I loghi sicuramente, già questo è un ottimo indizio, e anche i protagonisti perché abbiamo un Pulisic, abbiamo un Reinders, abbiamo Loftus-Cheek, abbiamo soprattutto anche le nuove divise dei rossoneri e chiaramente anche dell'Inter con anche i nuovi acquisti come Sommer, Pavard e Marcos Turam. Le divise per le squadre non licenziate sono complete, quindi qui l'Inter ha la prima, la seconda, la terza, stesso discorso per il Milan, la seconda è ben già vista, quindi abbiamo la prima, la terza e la seconda per l'appunto già vista. Non possiamo però dire lo stesso per la Juventus o per quelle squadre che sono totalmente licenziate. A loro resta l'ultima divisa, l'ultimo slot, ma solamente con la maglia home. Quindi no, non è un problema, non è un errore. Hanno aggiornato solamente la prima divisa delle squadre totalmente licenziate da Konami. Quindi signori, spero abbiate apprezzato questo video. Nei prossimi giorni ritorneremo a parlare di questa patch parlando dell'ordine dei campionati e delle competizioni e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi! Grazie a tutti!